Personalità pericolose di Joe Navarro. Mettere tutto insieme. Spero che questo capitolo vi abbia aiutato a capire come usare le checklist, combinandole per valutare i soggetti il cui comportamento vi fa riflettere o sta causando sofferenza a voi o ad altri, sia che lo stiate apprendendo dalle notizie, sia che lo stiate sperimentando direttamente. In conclusione, quando un individuo ha più caratteristiche di una personalità pericolosa, quelle caratteristiche combinate si potenziano a vicenda, rendendo quel soggetto molto più complesso, molto più instabile e potenzialmente più pericoloso. Maggiore è il punteggio di tali individui nelle checklist, maggiore è la loro complessità, instabilità e pericolosità. Anche se un individuo ottiene punteggi bassi in tutti i campi, stiamo comunque parlando di un soggetto che causerà in voi sconvolgimento, esasperazione, frustrazione, terrore oppure esaurimento, insomma un soggetto pericoloso che vi conviene evitare se avete a cuore la vostra salute psicologica, mentale, emotiva, fisica o finanziaria. Anche se le checklist non possono prevedere con esattezza cosa farà un individuo, vi danno un'idea della direzione del suo comportamento. Nessun comportamento può essere previsto, siamo tutti troppo complessi perché ciò avvenga, ma ricordatevi il miglior strumento di previsione dei comportamenti futuri è il comportamento passato e dal momento che le personalità pericolose sono disturbate nel carattere così come nella personalità è probabile che non abbiano intenzione di prendere provvedimenti per migliorarsi, quindi è probabile che la traiettoria del loro comportamento rimanga la stessa o peggiori a seconda delle circostanze. Se le checklist non sono a portata di mano e dovete valutare un soggetto rapidamente, ponetevi le seguenti cinque domande. 1. Mi influenza emotivamente in maniera negativa? 2. Compie atti illegali, irregolari, non etici oppure sfida alle norme sociali? 3. Compie atti di sfruttamento o manipolatori? 4. Fa cose pericolose? 5. Fa le cose impulsivamente, con scarso controllo o reluttanza a ritardare la gratificazione che conta di ricavarne? Più sono le risposte affermative, più è probabile che abbiate a che fare con qualcuno che combina tratti di più di una tipologia di personalità pericolosa. Le checklist vi aiuteranno perciò a individuare più specificamente il tipo di individuo con cui avete a che fare e dove è collocato sullo spettro in termini di pericolosità. Un altro suggerimento, consultate le sezioni delle parole che descrivono dal primo al quarto capitolo e cercate le parole che sembrano descrivere meglio tale personalità. Quelle parole da sole hanno aiutato molte persone ad avere conferma che quanto stavano vivendo era simile a ciò che altre vittime avevano sperimentato. Nella sua epocale opera Cipelago Gulag, Alexandre Solzhenitsyn, che ha così efficacemente messo in luce gli orribili abusi perpetrati dall'impero sovietico e dai suoi leader, avvertì che può arrivare un momento in cui un individuo oltrepassa il confine di quello che lui ha definito il male. C'era un tempo in cui Ted Bundy non era interessato a uccidere gli studenti universitari, ma a un certo punto oltrepassò quel limite e non tornò mai più indietro. Molti si domandano come o perché sia successo. Alcuni potrebbero ricordarsi di quando quel soggetto non era così. Sono curiosità legittime, ma voi e io viviamo nel presente e tutto ciò che conta è come quell'individuo è adesso e se rappresenta un pericolo per voi e i vostri cari. È tutto ciò che mi interessa e rappresenta lo scopo per cui ho scritto questo libro.